Il teatro romano di Teramo, il più importante nel Piceno, si trasformerà in un luogo di eventi attraverso un recupero finanziato da Stato, Comune e Fondazione Tercas a Regione Abruzzo e che prevede l'abbattimento dei due palazzi adiacenti, Adamoli e Salvoni. Un progetto che non ancora vede la luce dopo 22 anni di battaglie, iniziate dalla storica associazione culturale Teramo Nostra, che oggi teme tra l'altro anche la possibilità che l'amministrazione possa tornare sui propri passi nel decidere di non abbattere i due immobili incongrui. Intanto è un problema secolare, è il caso di dire. Il fatto che il Comune a suo tempo, quando la sovrintendenza invece che demolire, risistemava Palazzo Adamoli, non ha fatto niente, questa è la dimostrazione che non farà niente. Ma perché non si fa niente secondo lei? Perché il sindaco non è che coinvolge la cittadinanza in questo progetto per illustrare. Lui l'unica cosa che ha fatto durante la campagna elettorale, l'ultima campagna elettorale, che ha vinto per poco, l'ha fatto dicendo che per lui la priorità era l'abbattimento di casa Salvoni e casa Adamoli. Ha disatteso tutte le sue promesse elettorali. I palazzi Salvoni e Adamoli saranno abbattuti o no? Ma certo che sì, io davvero resto basito da certe comunicazioni, ma basta leggere, basta guardare questa tavola, la tavola 2 del progetto e basta leggere. Progetto, demolizione di Palazzo Salvoni e Palazzo Adamoli. Questa è la situazione, ante quella attuale, questa è la situazione che avremo dopo l'abbattimento. Quindi è evidente che hanno scambiato Palazzo Massignani per Palazzo Salvoni e Palazzo Adamoli. Ed è un grave errore, quindi insomma va bene, resto un po' basito, ma non fa niente. Invece vorrei invitare gli amici della manostra, se vogliono fare e devono fare qualche attività, non nei confronti del Comune, nei confronti della Regione. Perché il Governo mi ha chiamato qualche giorno fa e mi ha chiesto, mi ha detto che dovrò andare a Roma a firmare la convinzione per il milione e mezzo di euro del Governo. Il milione e mezzo di euro della fondazione c'è, manca il milione e mezzo di euro della Regione. Il Presidente Alfonso ha preso con me l'impegno che ci sarà, per cui non ho dubbi che questo avverrà, però se bisogna fare qualche attività di stimolo sicuramente non nei confronti del Comune.